Sì, sono terminati i lavori con l'inizio della scuola, abbiamo terminato i lavori davanti al municipio e davanti al plesso scolastico unico. Sono lavori di sistemazione di un pezzo di marciapiede lasciando sempre la strada a doppia corsia perché il rischio era quello di fare un marciapiede e restringere la strada a una corsia, invece siamo riusciti a trovare l'accordo con i proprietari in modo che togliendo con l'accordo dei proprietari circa un metro e mezzo di terreno ai proprietari abbiamo ristrutturato e abbellito tutto l'ambiente, abbiamo messo anche finalmente anche per Casnico la pensilina per i pullman perché i pullman prima si fermavano in piazza con grande disagio di tutti, delle famiglie che si svegliavano a mattino presto, dei fumi che entravano dalle finestre delle case e adesso invece abbiamo portato in un luogo apposito con la pensilina in modo che se anche piove i ragazzi e le persone che devono prendere i pullman possono stare al coperto, sempre e completamente in centro storico proprio davanti al municipio e davanti al polo scolastico. Per l'arredo urbano di via Raimundo Ruggeri che è quella che porta al centro del paese, alla piazza Giuseppe Bonandrino è speso circa 100 mila Euro, c'è da dire che in effetti i soldi spesi dal comune sono solo la metà perché metà vengono pagate alla regione tramite un finanziamento del distretto diffuso del commercio. Distretto diffuso del commercio vuol dire che la regione ci ha dato dei soldi facendo noi come amministratori e commercianti delle attività insieme. I commercianti abbellivano o sistemavano i loro negozi e il comune abbelliva il centro storico. Con questa operazione siamo riusciti ad avere sia noi sia i commercianti circa il 50% di quella che era l'operazione. Veramente adesso sono in sicurezza almeno altri 200 metri della via principale, ci restano ancora due interventi da fare, non so se riusciamo a fare entro il 2013 quando finisce la mia amministrazione perché i soldi dei comuni scarseggiano in modo incredibile, l'avete sentito tutti, ci sono ancora tagli del governo, non si capisce perché il governo tagli le amministrazioni sane.